In questo secondo video sull'esame della lingua in agopuntura e medicina tradizionale cinese affronteremo altri aspetti della patina e del corpo linguale correlati ad altre situazioni patologiche del nostro organismo. I nostri testi di riferimento sono sempre i due volumi che ho già consigliato nel video precedente, cioè Semeiotica Cinese, che è il secondo volume del trattato di agopuntura e medicina cinese che ho curato per la casa editrice Ambrosiana. Questo trattato è stato scritto da oltre una trentina di medici, io sono stato l'editor di tutto il trattato. Il secondo volume invece molto più semplice è Semeiologia Cinese, ispezione, auscultazione, olfattazione, interrogatori e palpazione, che è un volume che è stato edito dalla rivista italiana di medicina tradizionale cinese nella seconda metà degli anni 90. Io a quel tempo dirigevo questa rivista e quindi ho avuto l'occasione di affrontare per la prima volta questo argomento insieme con i colleghi che con me hanno scritto questo volume. Vediamo ora un'immagine, una lingua con un corpo gonfio ed ematoso, di consistenza molle, umido, pallido, che presenta ai bordi destro e sinistro le impronte lasciate dai denti. Queste impronte sono lasciate per il fatto che questa lingua, eccessivamente gonfia, batte contro l'arcata dentaria e siccome è molle, come consistenza si impronta. In Cina, quando si osserva una lingua che ha queste caratteristiche, si dice che il Qi, e cioè la propria bioenergia, potremmo dire carente, non permette una buona nutrizione della lingua, che appare dunque pallida, ma contemporaneamente questa carenza favorisce il ristagno dei fluidi e questi fluidi in eccesso si manifestano con la presenza di umidità che gonfia il corpo linguale e la spinge contro le arcate dentarie fino a improntare appunto il corpo linguale. Che sintomi avranno pazienti che hanno una lingua di questo genere? Si tratta di pazienti spesso stanchi, fisicamente ma anche psicologicamente, con tendenza alla depressione, alla tristezza, alla preoccupazione, alla rimoginazione su idee fisse e ossessive. Sono pazienti pallidi, che sudano facilmente al minimo sforzo, qualche volta possono sudare anche a riposo, temono il freddo e le correnti d'aria perché la scarsa energia non li protegge. Si ammalano frequentemente di disturbi reumatici e soprattutto di disturbi respiratori, che prendono facilmente il raffreddore, la bronchite, sono spesso inappetenti e affetti da disturbi dispeptici, cioè mancanza di appetito, distensione addominale, disturbi punto di stomaco. Secondo la medicina tradizionale cinese, il polmone domina il Qi e la milza produce il Qi, questa bioenergia. Alla milza infatti è affidato il compito di assimilare e distribuire tutte le sostanze nutritizie, i substrati alimentari provenienti dal cibo. Al polmone il compito di assimilare energie derivanti dalla respirazione. Quando si parla di milza, in realtà in medicina cinese, si intende l'insieme delle funzioni della milza e del pancreas, e in questo senso forse dovremmo parlare più di pancreas che non di milza. Se le funzioni di questi due organi sono insufficienti, ci sarà un divertoso apporto degli elementi fondamentali per lo svolgimento di tutti i processi ossidoriduttivi che sono il fondamento del nostro metabolismo. La conseguenza, dunque, è un deficit di carburante organico, cioè di substrati nutritizi di origine alimentare e di ossigeno di origine respiratoria. In questi casi, ovviamente, occorre tonificare il Qi con l'agopuntura, la dieta, con i farmaci. Nel caso dei farmaci c'è una ricetta famosissima in Cina che si chiama Sijunzitang, e cioè il decotto dei quattro gentiluomini perché è fatto da quattro rimedi fondamentali della medicina tradizionale cinese. Ovviamente si può tonificare il Qi anche con le ginnastiche mediche come, per esempio, il Qi Gong. Bene, vediamo altre immagini della lingua e qui vediamo una lingua rossa. La lingua da eccesso di calore. Questa lingua presenta un corpo linguale più rosso del normale e qualche volta è ricoperta da una patina gialla, generalmente è ricoperta da una patina gialla. Il colore rosso del corpo e quello giallo della patina sono tanto più intensi quanto maggiore è il calore del corpo. Nei casi più avanzati il rosso diventa cremisi e il giallo vira verso il nocciolo, il marrone, addirittura può diventare nero. Quali sono i sintomi di questi pazienti che hanno una lingua così rossa con la patina così gialla? Questi pazienti sentono caldo, hanno sete, bocca secca, sudano facilmente, possono avere anche un vero e proprio aumento della temperatura corporea tanto maggiore quanto più alto è il rossore, dunque il calore. Presentano urine piuttosto scarse, di colore e odore particolarmente carichi, stitichezza con feci asciutte, secche e caprine e ovviamente possono avere dei fenomeni infiammatori che riguardano varie parti del corpo. Potrebbero avere fenomeni infiammatori delle vie respiratorie, delle vie urinarie oppure fenomeni infiammatori a livello gastrointestinale. Ovviamente a seconda della topografia del rosso e del calore avremo un'infiammazione che interessa di più certi settori dell'organismo. In questo caso la lingua è completamente rossa però potrebbe essere rossa solo alla punta e allora indica un fenomeno infiammatorio che riguarda il riscaldatore superiore, si direbbe in Cina, cioè il polmone oppure il pericardio. Potrebbe essere rossa soltanto ai bordi e allora indica un problema di fegato. Essere rossa al centro e allora indica un problema di stomaco. Nei casi in cui la lingua è rossa in medicina cinese si dice che occorre purificare il calore e questo si può fare attraverso l'agopuntura, attraverso i farmaci oppure con l'assunzione di una dieta a base di alimenti che abbiano natura rinfrescante. Vediamo ora un'altra lingua. La lingua da ritenzione di umidità. In questo caso il corpo linguale è gonfio, spesso, pallido, la patina è presente, generalmente biancastra è tanto più spessa, ammassata, grassa, quanto maggiore è l'eccesso di umidità. Quindi la patina è un buon elemento per valutare la quantità di umidità presente all'interno del nostro organismo. Quali sono i sintomi di un paziente che abbia una lingua di questo genere? Qui vediamo un'immagine che presenta questa patina spessa. Si tratta di pazienti che secondo la medicina cinese non sono in grado di metabolizzare correttamente i fluidi organici. Questi fluidi tendono a ristagnare nei tessuti, negli organi, nei visceri e determinano sensazione di pesantezza muscolare, sensazione di pesantezza agli arti, sensazione di pesantezza e ostruzione a livello toracico, a livello addominale. La ritenzione di umidità ostacola un po' anche le funzioni mentali, per cui spesso si tratta di pazienti che lamentano una sorta di stordimento, di offuscamento mentale, una cefalea aggravativa, pesantezza mentale e, nei casi molto gravi, anche un vero e proprio stato di sonnolenza o letargia. Vediamo ora un'altra lingua, una lingua che si manifesta piuttosto frequentemente, la lingua d'astasi di C, d'astasi di bioenergia. La lingua, in generale, non è particolarmente modificata. Secondo la mia esperienza, presenta un aspetto più opaco e un colore rosa che vira leggermente verso il violaceo. In alcuni casi, come quello di questa immagine, l'astasi può produrre del calore e, quando c'è il calore, questo calore si manifesta con un arrossamento della punta della lingua. Però, questa presenza di calore non è assolutamente né automatica né frequentissima. Nel caso che il calore riguardi il fegato, invece che la punta della lingua, avremmo un arrossamento oppure un colore più violaceo che riguarda soprattutto i bordi. Ma, in generale, questa lingua non è caratterizzata dal rossore, quanto dalla opacità ed, eventualmente, da una tendenza del colore a sfumare verso il violaceo. Quali sono i sintomi di un'astasi di C? L'astasi di C è tipica delle persone che sono stressate e, dunque, possono manifestare il loro disagio sia a livello mentale con uno stato di frustrazione, di depressione, ma anche con un temperamento instabile e tendenza all'irritabilità, all'irrascibilità, eccessi di collera. Spesso, le donne con stasi di C presentano una sindrome premestruale che si manifesta con distensione addominale, irritabilità, dolore al seno, qualche volta cefalea e dolori al primo giorno del mestro. Che cosa si fa in questi casi? Occorre eliminare l'astasi con l'acupuntura, con i farmaci, con alcuni cibi, per esempio il sedano, che, secondo la dietetica cinese, è considerato un cibo di sapore piccante perché ha quest'azione dissipante, è un farmaco, un cibo, cioè che rasenta quasi il farmaco, che può essere utilizzato in questi casi. C'è una ricetta cinese che si chiama Xiao Yao San che ha lo scopo di dissolvere l'astasi del C del fegato e contemporaneamente di tonificare C e sangue del pancreas. Video di medicina dall'Italia alla Cina a cura del dottor Lucio Sotte visita il sito internet www.luciosotte.it per informazioni su acupuntura, medicina cinese, medicina integrata.